Dopo gli enormi disagi al traffico causati dalla frana all'ingresso del paese, diversi mesi prima dalla chiusura dell'ufficio postale per l'inagibilità dell'edificio che ospitava anche la sede del municipio, finalmente si tira un sospiro di sollievo tra i cittadini di Castelpizzuto. Stamani i posti italiani hanno dato il via all'installazione di un modulo prefabbricato tale da garantire il regolare funzionamento del presidio a cominciare dalla metà di giugno. Nel frattempo si sta provvedendo ad arrietare i locali e a dotarli delle tecnologie necessarie. Stavamo aspettando da tanto il nostro nuovo ufficio postale, finalmente oggi è arrivato e quindi è chiaro che siamo estremamente soddisfatti, era un servizio che la cittadinanza aspettava da tempo. Una conquista non di poco conto dell'amministrazione comunale guidata da Carla Caranci, messa a segno dopo continue interlocuzioni scritte e verbali con i vertici capitolini di poste italiane. C'è stata una forte determinazione da parte dell'amministrazione comunale e devo dire che anche Poste Italiane ha dato un'ottima risposta come è possibile vedere con il risultato che abbiamo raggiunto oggi. Ma se da una parte si torna alla normalità non si può dire lo stesso per gli attesi lavori sulla frana, un ritardo notevole sulla tabella di marcia che potrebbe far slittare alla primavera del prossimo anno le necessarie opere di consolidamento a decine di metri sotto il suolo prima del completo rifacimento del fondo stradale. È una preoccupazione non solo mia ma di tutta la cittadinanza, una seria preoccupazione. È ovvio che capisco anche che è una progettazione particolarmente complicata, sono in costante rapporto con i tecnici e con la provincia, è chiaro che ci aspettiamo che i lavori inisino quanto prima, almeno tempi certi per l'avvio dei lavori. La provincia so che è impegnata a chiudere il progetto, il finanziamento anche c'è da parte della regione, però è ovvio che finché non vediamo l'avvio dei lavori non riusciamo a non preoccuparci per l'estate che chiaramente passerà velocemente e velocemente ci ritroviamo in autunno e in inverso.